Easy Go Non ne posso più di questa Croft Prima Dominguez ci dice di cercare l'ultimo Ora Rourke vuole che cerchiamo Croft A chi dobbiamo dare retta? Beh, Rourke è un leader militare E le decisioni di Dominguez stanno costando la vita ai nostri Ti conviene decidere alla svelta chi essere leale Mi prendi in giro? La cosa è semplice Devo sapere se posso contare su di chi Il comando ha perso contatto con la squadra Ro Tendiamo di evitare che accada di nuovo Non riuscirà a passare Ho sentito qualcosa Ho sentito io Qualcosa che non va Non riuscirà a passare Non riuscirà a passare Non riuscirà a passare